giorno 8 allora apriamo l'ottava casella oggi non vi faccio vedere l'orologio cerchiamo un attimo e la troviamo la troviamo la troviamo la troviamo qui siamo abbiamo uno dei droidi delle classi della trilogia originale battle droid e ne abbiamo pure visto uno protagonista di un libro di star wars si chiamava il signor ossa ed era protagonista era il droide di snap wadeley che sarebbe uno dei personaggi anche presenti nella nuova trilogia di star wars questo è facile di questi geni ho montati un paio quindi non dovrebbero non dovrebbe aver problemi a montarlo ecco qui questa è una delle cose che mi piace di più della nuova trilogia della trilogia prequel questo è quanto per il giorno 8 ci vediamo per il giorno 9 capito capito